Cari amici, un cordiale saluto per tutti voi. È interessante notare come dalla linea delle penne stilografiche Hero 616, nate sulla falsariga della famosissima Parker 51, di cui ricalcano le linee esteriori e soprattutto il sistema aerometrico di carica che contraddistinse le Parker 51 a partire dalla versione Mark I, si possa alla fin fine ricavare una piccola, divertente, economica collezione di nicchia di penne stilografiche tutte proprio relative alla linea 616 di Hero. Riepilogando brevemente, molto brevemente, i modelli delle Hero 616 originali sono i seguenti, contraddistinti principalmente da differenti caratteristiche ma principalmente dalle dimensioni. Dal più piccolo al più grande abbiamo il modello Small, il modello Regular e il modello Jumbo. Il modello Small ricordiamo la caratteristica supplementare di avere il pennino dorato. A queste versioni si aggiunge un modello che sarà il protagonista di questo video, il modello Hero 616 Golden Cup. Questo modello è una sorta di variante del modello Hero 616 Jumbo. La versione Golden Cup si distingue dalla Jumbo per il cappuccio dorato, come dice il nome, Golden Cup. E anche per la presenza di un pennino dorato. Pennino che potete vedere. Per il resto, i due fusti, i fusti delle due penne, sono perfettamente identici. Le differenze quindi tra le due versioni si concentrano, a parte il pennino che, come dicevamo, è dorato nella versione Golden Cup, si concentrano quindi essenzialmente nei cappucci. Notate che il cappuccio dorato, come quello in acciaio, presenta le righe parallele sulla sua superficie. La clip è invece differente. Sporgente al vertice, quella del cappuccio dorato, più aderente quella del cappuccio in acciaio. Una ulteriore diversità tra i due cappucci sta praticamente nel sistema di ritenzione del cappuccio stesso. All'interno del cappuccio ci sono come delle molle che fanno in modo che una volta che il cappuccio viene innestato sul fusto, non possa fuoriuscire facilmente. Quello della versione dorata non consente un innesto profondo sul fusto, il quale rimane in parte fuori dalla copertura del cappuccio stesso. Il risultato è che a cappuccio chiuso la versione Golden Cup sembrerebbe più lunga. Guardate un po'. Infatti, la 616 Golden Cup misura con il cappuccio chiuso 14,3 cm, mentre la Jambone misura 13,8 cm. La differenza tra i due cappucci si evidenzia anche nel peso. Il cappuccio dorato pesa 7,5 grammi, mentre quello della Jumbo non dorato pesa solo 7 grammi. Mentre, torno a ripetere, i fusti delle due penne sono perfettamente identici, con l'unica differenza, ripeto ancora una volta, che il pennino della Golden Cup è dorato, esattamente come il suo cappuccio. A questo punto non ci resta che effettuare una prova su carta, per vedere come si comporta il pennino dorato della Hero 616 Golden Cup. Ed eccoci alla nostra prova su carta. Prima di iniziare, volevo puntualizzare che utilizzeremo l'inchiostro Parker Quink colore nero, e che la carta che utilizziamo, questo da sempre, che utilizziamo per le nostre prove su carta, è la carta Fabriano Ecoqua, che ha una grammatura da 85 grammi, ed è prodotta con il 100% di cellulosa TCF, totalmente priva di cloro. Cominciamo la nostra prova, allora, prova su carta, della penna stilografica Hero 616 Golden Cup. Carta Fabriano Ecoqua, 85 grammi, inchiostro Parker Quink, colore nero. Fin qui, nessun problema. Vediamo come funziona. Nessun problema, neanche qui. L'erogazione deve tener conto di una certa porosità di questo tipo di carta, eh. ed infatti. Andiamo alla prova di scrittura con l'appennino rovesciato, modalità Reverse. Prova che sembra superata in pieno. Per esempio, suppongo che il pennino non sia per niente elastico, ma del resto questa penna non nasce per la caligrafia. vediamo adesso la continuità del flusso. Andiamo che voi continuere, direi che in questa prova su carta la hero 616 jumbo perché di questo si tratta alla fine tranne che per il pennino dorato e per il cappuccio dorato conferma tutte le sue qualità di scrittura di una penna senza troppi fronzori ma che veramente un pennino punta fine che non dà assolutamente mai nessun tipo di problema bene la recensione a questo punto potrebbe terminare qui in descrizione vi lascio il link per chi volesse arricchire la propria collezione di hero 616 aggiungendo il modello golden cup potrebbe terminare qui ma non termina perché devo presentarvi una versione ancora diversa della hero 616 golden cup ancora più diversa della diversità tra il modello di cui abbiamo parlato e il modello jumbo tanto da farmi ritenere post possa trattarsi di una golden cup tra virgolette particolare questa golden cup si presenta nella sua confezione marcata con il logo hero ed è a tutti gli effetti chiaramente originale con il suo bravo codice a barra ma come vi preannunciavo ci sono delle diversità tra queste due penne e non sono di poco conto ma di questa golden cup particolare e assolutamente originale come questa originale come questa parleremo in un prossimo video iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con le novità stilografiche di col papier grazie per aver visto questo video e arrivederci a presto a presto